In apertura di Tg la politica, out-out della maggioranza PD, arresto del centro-sinistra, primarie con Pittella o candidato esterno, al vaglio profili come Colangelo, Maruggi e Quarto, e intanto oggi Speranza riunisce i suoi nell'assemblea provinciale di MDP. La cronaca con l'accusa di aver ripetutamente abusato di due minorenni, un 55enne di Campomaggiore, è stato condannato in appello a 7 anni e 6 mesi, uno degli episodi si sarebbe verificato all'interno dello spogliatoio di una squadra di calcio. Gli ultimi preparativi per la macchina organizzativa di Matera 2019, in arrivo il Presidente della Repubblica e il Premier Conte, stamane in questura illustrate le misure di ordine pubblico. L'inflazione per i Lucani solo una stangatina nel 2018, per l'Istat la Basilicata infatti è la regione dove i prezzi sono aumentati di meno. E fine il calcio, la Serie C in Matera presenta la fideiussione e domenica sarà in campo contro la Sicula Leonzio, ma intanto sbuca un buco collerario di 4 milioni e mezzo. Buon poveriggio, buon venerdì e ben ritrovati in studio per l'appuntamento con le notizie dal Basilicata. In primo piano c'è la politica con l'out-out della maggioranza PD al resto del centro-sinistra, primarie con Pittella o un candidato esterno. Al vaglio ci sono i profili di Colangelo, Maruggi e quarto. Intanto oggi pomeriggio Speranza riunisce i suoi nell'assemblea provinciale di MDP. Facciamo il punto nel servizio di Mararisola. Avanti sulla linea delle primarie con il presidente Pittella tra i possibili candidati. L'alternativa? Un esterno condiviso dalla maggioranza, in particolare dalla maggioranza Dema. A Roma si è parlato di questo in un vertice al quale hanno preso parte il segretario del Partito Democratico, Mario Polese, i parlamentari Gianni Pittella, Salvatore Margiotta e Vito De Filippo, ma anche alcuni referenti del Partito Nazionale in qualità di osservatori esterni che hanno avuto modo di incontrare anche Marcello Pittella. La linea emersa è stata la conferma di quanto portato avanti in questi mesi. Nessuna retromarcia del presidente. Anche perché il passo di lato Pittella lo avrebbe effettuato, offrendo agli altri aspiranti candidati la possibilità di competere con il bagno di popolo delle primarie. Resta aperta l'ipotesi di una candidatura esterna alla politica. Al vaglio profili come quello di Pier Giorgio IV, ex presidente di Coldiretti Basilicata, ma anche quello dell'ex DG del San Carlo Giampiero Maruggi. L'ulteriore tentativo di mediazione come filtrato sarebbe stato messo in campo con la proposta di candidatura offerta a socialista Rocco Colangelo, ex assessore alla sanità, considerato dagli scerpa come il dinardo del 2019. Anche perché nomi come Cifarelli o Valluzzi non avrebbero la condivisione di tutti, soprattutto nel PD. Ma Colangelo avrebbe rifiutato. Intanto nel fronte di Basilicata I tutto pronto per l'Assemblea del 21, in occasione della quale sarà presentata squadra e candidato presidente, il consigliere Piero Lacorazza. Intervistata dalla nuova la portavoce Vittoria Portusiello, ha dichiarato la loro disponibilità al confronto, ma nel frattempo si va avanti. Sul fronte della data del voto ancora nessuna certezza. Ad Oras la presidente facente funzioni, Flavia Franconi, potrebbe indire il decreto. Il Movimento 5 Stelle, con i consiglieri Perrino e Leggeri e il candidato presidente Mattia, chiede celerità. Andremo all'appuntamento del 2019 senza un presidente e la denuncia dei pentastellati. In attesa dell'indizione delle elezioni, il Consiglio regionale di Basilicata si riunirà martedì prossimo 22 gennaio alle 10.30. In apertura di seduta, previste tre comunicazioni dell'Aggiunta in merito all'attività estrattiva a Tempa Rossa, alla situazione dei lavoratori interinali dell'ARPAB e all'emergenza trasporto pubblico locale. Seguirà la presa d'atto del sorteggio dei revisori dei conti della regione Basilicata e l'esame dei provvedimenti finanziari di alcuni enti, come la seconda variazione al bilancio di previsione 2018 dell'Ater di Potenza e l'assestamento al bilancio di previsione 2018-2020 del Parco Gallipoli Cognato e del Parco delle Chiese Rupestri del Materano. E passiamo alla cronaca giudiziaria. Con l'accusa di aver ripetutamente abusato di due minorenni, un 55enne di Campomaggiore è stato condannato in appello a 7 anni e 6 mesi. Uno degli episodi si sarebbe verificato all'interno dello spogliatoio di una scuola di calcio del Paese. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Lieve sconto di pena in appello per il 55enne di Campomaggiore accusato di violenza sessuale nei confronti di due minorenni affetti da un ritardo mentale, costretti a subire rapporti sessuali dietro la minaccia di un coltello e in cambio di piccole somme di denaro. La Corte d'Appello di Potenza è infatti fatto cadere uno dei tre capi di imputazione a carico dell'uomo riguardante una terza tentata a violenza sessuale. Dei nove anni inflitti in primo grado si è così passati ai 7 anni e 6 mesi al termine del processo di secondo grado. Uno degli episodi contestati all'uomo si sarebbe verificato all'interno dello spogliatoio di una squadra di calcio del Paese dove le due vittime sarebbero state costrette a praticare atti sessuali. L'imputato gravitava intorno alla squadra di calcio come collaboratore e secondo l'accusa aveva la disponibilità delle chiavi dello spogliatoio. Le violenze e gli abusi però sarebbero stati perpetrati anche in altri luoghi sulla scorta di quanto raccontato dalle vittime. Uno dei due minorenni aveva parlato di almeno tre episodi oltre a quello dello spogliatoio. Verificatesi a casa dell'imputato in una serra e all'interno di una baracca di campagna. I fatti oggetto del processo risalgono al 2013 quando le vittime avevano 16 anni. All'imputato per evitare la condanna definitiva resta ora il ricorso in cassazione che potrà essere proposto dopo le motivazioni della sentenza d'appello. 37 mila articoli dannosi per la salute umana sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in negozi della zona di Vigiano che vendono generi alimentari, saponi e detersivi. I negozi dipendono da attività commerciali che hanno sede nelle province di Potenza, Napoli e Bari. Continuiamo a parlare di sanità. Al CUP Servizio a Rilento montano le proteste dei cittadini per le snervanti attese. E liste sempre più lunghe per i Lucani, qui spetta il primato della mobilità sanitaria extraregionale. Ce ne parla Rocco Romanelli. Il servizio del CUP, il centro di prenotazione delle visite e delle prestazioni mediche, non funziona più come prima. Trascorre troppo tempo tra la richiesta e la risposta telefonica. I cittadini continuano a lamentarsi ma nessuno provvede a ripristinare un servizio indispensabile che prima riscuoteva consenso generale. I motivi della lentezza nelle risposte non si conoscono, nessuno apre bocca se non per dire che l'appalto è in scadenza e manca la giusta motivazione da parte dell'impresa appaltante. Torna così prepotentemente alla ribalta il delicato problema dell'affidamento del servizio per proroghe tecniche. Dalla scorsa estate nulla è cambiato, malgrado ci si ritrovi alla vigilia della scadenza della lunga catena di proroghe. Gli oltre 100 lavoratori si troveranno nuovamente a combatte per salvare il proprio posto di lavoro e per garantire ai cittadini un servizio ormai vitale. Due società materane, la Data Contact e la Lucana Sistemi, continuano ad usufruire di proroghe tecniche nonostante la magistratura amministrativa abbia sentenziato l'annullamento dell'intera procedura di gara per l'esistenza di vizi afferenti alla partecipazione di entrambi gli offerenti. Si tratta dell'ottava proroga e ogni mese costa alla regione 666.000 euro. Ma intanto a 40 anni dall'istituzione del servizio sanitario regionale sono sempre le liste di attesa la prima priorità da affrontare. La conferma viene anche dal sedicesimo rapporto annuale ospedali e salute 2018 promosso dall'IOP. Nell'ultimo anno le liste d'attesa più lunghe, oltre i 60 e fino a 120 giorni, hanno interessato il 35,6% degli utenti per le visite specialistiche, il 31,1% per i piccoli interventi ambulatoriali, il 22,7% per gli accertamenti diagnostici e il 15% per i ricoveri in ospedale pubblico per interventi più gravi. Sono significative anche le attese tra i 30 e i 60 giorni, in particolar modo per l'accesso a visite specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri, che hanno riguardato rispettivamente il 22,6%, 20% e 18,3% degli utenti. Oltre il 30% degli utenti, per accedere più rapidamente ad una visita o a un esame, sceglie di rivolgersi ad altre strutture, di pagare privatamente le prestazioni o ricorrere a ospedali in altre regioni e alla Basilicata spetta il primato di mobilità sanitaria extra-regionale. Ma non tutto è da buttare con una nota. Il neodirettore generale dell'AR San Carlo, Massimo Barresi, ringraziando gli operatori sanitari per i risultati conseguiti, commenta il risultato della Basilicata nella griglia dei LEA, i livelli di essenziali di assistenza ospedaliera su servizi e prestazioni. Una parte significativa dei 189 punti attribuiti alla regione Basilicata, dice Barresi, è riconducibile all'attività dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, comprensiva dei presidi ospedalieri afferenti Lago Negro, Melfi, Pesco Pagano e Villa d'Agri. Non è un traguardo, ha concluso il DG, ma un punto di partenza è uno stimolo a contribuire in maniera ancora più significativa anche in quelle aree che necessitano di ottimizzazione. Passiamo al lavoro. Sono in sciopero ormai da tre giorni gli operai della Ingegneria Italia ex Blutec, azienda metalmeccanica di Tito che opera nell'indotto FCA. Le RSU di FIM e FIOM accusano l'azienda di non fornire adeguate informazioni ai lavoratori su buoni pasto, stipendi, sicurezza, contributi ai fondi complementari, lavorazioni e investimenti per l'adeguamento dei macchinari. FIM e FIOM e i delegati, nell'esprimere un giudizio negativo sui mancati impegni da parte dell'azienda, dichiarano di continuare le azioni di lotta, proclamando ulteriori otto ore di sciopero per oggi, con assemblea permanente davanti ai cancelli per definire ulteriori azioni sindacali da intraprendere con tutti i lavoratori che aspettano ormai da troppo tempo risposte concrete. Ma per capire il clima che si respira, sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni un sindacalista. Dal nostro canto noi continueremo a oltranza fino a quando almeno non riusciremo a coprire gli arretrati, tutto ciò che ci spetta, tenendo presente che la maggiore preoccupazione per tutti i lavoratori è il futuro, futuro che tuttora rimane incerto e che speriamo nel breve tempo possibile sia risolta la situazione e che tutti possiamo ritornare al lavoro. Dalla vertenza Blutec a quella Ferro Sud perché è arrivata oggi la convocazione presso il Mise, dunque le sigle sindacali FIM, FIOM e Wilma hanno revocato la comunicazione di presidio dei lavoratori prevista proprio per domani mattina a partire dalle ore 10.30 presso la prefettura di Matera e con questo ci separiamo per una breve pausa. A fra poco. Nuova Impianti a Potenza progetta e realizza qualsiasi tipo di impianto per la vostra abitazione o per locali privati e pubblici, scegliendo tra le migliori soluzioni sul mercato in termini di qualità e affidabilità. Nuova Impianti di Aldo Capitini 26 a Potenza per informazioni il sito noveimpiantipotenza.eu mail info chiocciola noveimpiantipotenza.eu Scegliete subito l'impianto che vi farà risparmiare energia. Natura Amica, non solo bruschette, pronti all'uso da spalmare o per condire ogni tuo piatto. Natura Amica, non solo bruschette, gusto e sapore di un prodotto lucano. Scopri tutte le ricette su nonsolobruschette.it Natura Amica, non solo bruschette, chiedilo al tuo supermercato. Ripartiamo con la pagina dedicata a Matera 2019 perché è partito il conto alla rovescia verso la tappa che vedrà la città dei Sassi, capitale europea della cultura per quest'anno. Qualche novità si va ad aggiungere al rigoroso piano sicurezza che scatterà già dalla giornata odierna. Questa sera è atteso l'arrivo del Premier Conte e del Presidente della Repubblica Mattarella che parteciperanno alla cerimonia di domani. Tutti i dettagli da Mariolina Notargiacomo. In questo 2019, insieme a quello del 2 luglio, i materani si preparano a vivere il loro giorno più lungo dell'anno. È tutto pronto per le celebrazioni che vedranno la città, capitale europea della cultura. Le ultime novità dopo le indicazioni su viabilità e accesso nel centro storico di Ramate dal Comune riguardano piccoli dettagli, come quello che vede in occasione della cerimonia inaugurale l'attivazione per l'intera giornata di un servizio NERS presso l'Info Point di Via Lucania assicurato dall'Associazione delle Mom, Mamme e Materane all'Opera. Per le famiglie in giro con i bambini sarà anche possibile usufruire di uno scalda biberon, di un fasciatoio e di un angolo pappa, sempre negli spazi dell'Info Point. Anche Piazza San Giovanni sarà dedicata ai più piccoli e ai ragazzi. Grazie all'Associazione WISP ci sarà uno spazio attivo dalle 10 alle 16.30, mentre durante tutto l'arco della giornata saranno proposti in forma gratuita laboratori creativi, giochi e attività sportive. La cerimonia d'apertura continua nei locali della città che hanno aderito alla manifestazione di interesse lanciata dalla Fondazione per dare risalto agli eventi musicali che si protrarranno fino a notte fonda. Agli acquirenti e ai possessori del passaporto per Matera 2019, il ticket che permette l'accesso a tutte le manifestazioni del programma culturale, sarà consegnato presso l'Info Point un passaporto cartaceo da poter far timbrare in occasione di tutti gli eventi. All'interno del passaporto sarà possibile raccontare le proprie esperienze. Al termine del 2019 i passaporti che offrono le narrazioni più interessanti verranno selezionate da una commissione mista Matera Galway per essere invitati nella città irlandese che sarà capitale europea della cultura nel 2020. Grazie al lavoro dell'Open Design School ha aperto un ulteriore Info Point agli ipogiai di Piazza San Francesco dove i volontari di Matera 2019 daranno tutte le informazioni e i materiali sulle attività in corso. Il team digitale della Fondazione ha inoltre predisposto una mappa geolocalizzata con tutte le informazioni utili, le modalità di spostamento e le attività in programma. Già noti i nomi degli artisti che animeranno le celebrazioni con proietti mattatore sul palco di Piazza San Pietro Caveoso che accoglierà skin, brachetti, papaleo. E sono attesi questa sera il Premier Conte e il Presidente della Repubblica Mattarella presenti già dal mattino alla cerimonia Cava del Sole. Intanto in città si sta cercando di dare un'accelerata alla chiusura dei cantieri infrastrutturali. Uno di questi è quello della stazione centrale delle Falle in Piazza della Visitazione. Oggi in una conferenza stampa i vertici di Ferrovia Pulo Lucane hanno incontrato la stampa annunciando la riapertura della stazione cittadina. Il primo treno partirà domattina alle 5.20 ad accogliere i passeggeri un sito moderno progettato dall'architetto Stefano Boeri. Alla conferenza stampa promossa all'interno della nuova stazione di Matera Centrale hanno partecipato il Presidente delle Falle, Almiento, il Direttore Generale Colamussi e il Sindaco di Matera De Ruggeri con l'assessore regionale alla mobilità Castelgrande. La nuova stazione sarà il biglietto da visita per i turisti di Matera 2019, ha detto Almiento, ma negli anni successivi resterà un'opera architettonica, un'infrastruttura che Falle ha realizzato con l'obiettivo di lasciare una traccia culturale green ma soprattutto accessibile. L'opera, lo ricordiamo, è finanziata con 7 milioni di euro a valere sul Pofesser Basilicata 2014-2020. E invece arriva dagli agricoltori della Coldiretti il primo pranzo da record di Matera, capitale europea della cultura 2019, con oltre 5.000 piatti di crapiata, la tipica zuppa contadina della Lucania, con legumi misti, grano, peperone crusco e olio d'oliva per raccontare la tradizione della dieta mediterranea che ha garantito all'Italia i primi posti di longevità a livello mondiale. Una dimostrazione concreta del valore culturale del patrimonio enogastronomico locale che sarà protagonista con la Coldiretti domattina alle 11 in piazza San Francesco, nel cuore del centro storico della città, per il primo giorno da capitale della cultura. E voltiamo pagina per parlare di inflazione. Per una volta il fondo nella graduatoria nazionale rappresenta un dato positivo, un fattore virtuoso. La Basilicata è infatti la regione dove l'inflazione ha fatto sentire meno i suoi effetti. I prezzi sono saliti appena dello 0,4% nel corso del 2018, per un aggravio di spesa pari a 81 euro annui a famiglia. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istat dedicato all'andamento dei listini in tutta Italia. La regione più cara in termini di spesa aggiuntiva è il Trentino Alto Adige, dove l'inflazione media dell'1,6% determina per una famiglia tipo una stancata pari a 453 euro su base annua. Segue l'Emilia-Romagna, dove l'incremento dei prezzi pari all'1,4% implica una spesa annua supplementare di 381 euro. Terza, la Lombardia, dove l'inflazione dell'1,3% genera rincari pari a 371 euro. La Basilicata si conferma la regione meno cara. Per quanto riguarda le macro aree, in testa il nord-ovest, con un'inflazione dell'1,3%, ha un salasso per una famiglia tipo di 351 euro su base annua. La frenata dei listini nell'ultimo periodo dell'anno ha contribuito a limitare i danni e anche l'andamento al ribasso del petrolio degli ultimi mesi del 2018 ha avuto effetti positivi sulle tasche dei consumatori, spiega il presidente del Kodakons, Carlo Rienzi. Tuttavia, è proprio il comparto dei trasporti, quello che registra, dopo alcol e tabacchi, la crescita maggiore nel 2018, pari a una media annua del più 2,7%, e impatti sui bilanci familiari fino a 143 euro annui in più per un nucleo con due figli. I dati Istat attestano poi un'enorme differenza a livello territoriale. Se il Trentino Attuadige si conferma la regione d'Italia dove i prezzi crescono più velocemente, di contro la Basilicata è la regione dove i listini crescono più lentamente, con un aggravio di spesa, come già detto, di appena 81 euro annui a famiglia. L'assemblea della conferenza dei rettori, Crui, ha eletto come nuovi membri della giunta i rettori Francesco Adornato dell'Università di Macerata, Ferruccio Resta del Politecnico di Milano, Rosario Rizzuto dell'Università di Padova e Aurelia Sole dell'Università di Basilicata. Con la nomina dei quattro rettori si va a completare, insieme ai sette già in carica, la giunta della conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente del Consiglio regionale lucano, Santarsiero, ha evidenziato che l'elezione di sole rappresenta un significativo riconoscimento alle qualità della rettrice, nonché un riconoscimento all'intera Università di Basilicata. Passiamo al calcio Serie C, il Matera presenta la fideiussione, domenica sarà in campo contro la Sicula Leonzio, ma intanto sbuca un buco collerario da 4 milioni e mezzo. I dettagli da Luigi Santopietro. Il presidente del Matera, Rosario Lamberti, ha presentato in Lega Pro nella giornata di ieri la bozza della fideiussione sottoscritta con la Cattolica. Ora si tratta di capire se nei palazzi fiorentini ci sarà, dopo un'attenta valutazione, lo che è definitivo o meno. Il passo è stato fatto, ma non è tutto oro quello che luccica. Il Matera Calcio ha un debito con l'erario certificato di 4,5 milioni di euro, una situazione che pesa e non poco sul futuro del club. È un fiume in pieno il presidente Lamberti, che in conferenza stampa ne ha avute per tutti. Il patron del Matera ha spiegato come la fideiussione sia l'ultimo dei problemi. Lo snodo cruciale è il debito con l'erario che l'anno prossimo non permetterebbe a Lamberti di iscrivere la squadra al campionato. Ma il presidente annuncia il ricorso al lodo lotito, ovvero lo spalmo del debito nel tempo. Nel corso della conferenza di ieri il numero uno del club bianca-azzurro ha attaccato l'ex presidente di Lega e attuale presidente della FIGC Gavina, che avrebbe permesso l'iscrizione del Matera al campionato senza il rispetto dei parametri minimi. Così come l'asso calciatore assente, secondo Lamberti, nel momento in cui furono sottoscritti i contratti ai calciatori da parte di una società senza uno straccio di bilancio. Situazione che resta dunque complicata. Per non incorrere in altre sanzioni, lo stesso Lamberti ha fatto una proposta al presidente di Lega Pro Ghirelli, sfruttando i crediti con la Lega per provvedere al pagamento diretto dei calciatori ed evitando i continui pignoramenti. Nel frattempo, domenica si gioca e la squadra a disposizione di mister in bimbo sarà piena zeppa di giovani, anche se nuovi atleti si stanno allenando, ma non possono essere tesserati per non sfondare il plafond finanziario del club. Abbiamo il mercato bloccato, ha tornato Lamberti, perché qualcuno non ha presentato a fine settembre la situazione patrimoniale della società. Intanto, le uscite di Sepe al Potenza, Ricci, anche per lui la direzione di Viviani e dell'Ino, potranno permettere a Matera di ingaggiare qualche calciatore prima della fine del calciomercato. E con la ripresa del campionato alle porte, oggi pomeriggio vi proponiamo una puntata speciale di Vitamina C, dedicata ai gol più belli di queste prime 20 giornate del Girone C di Serie C, una collection con le tre reti più belle messe a segno ogni giornata. L'appuntamento è sulla nuova tv alle 15.30 e in replica alle 20.30 e dopo il Tg delle 22.50. Voltiamo pagina e andiamo a Pignola, dove ieri si è inaugurato il periodo del Carnevale con il tradizionale paleo degli asini. Sentiamo. A gennaio, Pignola rinnova il suo secolare rito dedicato a Sant'Antonio Abate, legato all'inizio del Carnevale. Acceso un grande falò alla Fanoia, vicino alla Chiesa del Santo, l'abbraccio non è ancora spenta, quando si sente lo scalpitio di zoccoli del cavallo e del mulo che battono sul selciato. E' la corsa dei cavalli, muli ed anche asini, ed è il culmine di un rito a cui i pignolesi sono molto legati. Gli animali si raccolgono in piazza per ricevere la benedizione e quando il sacerdote la impartisce, la corsa è inizio. Un paleo spettacolare che si consuma per le strette vie del centro storico e attorno alla Chiesa, dove i corridori compiono tre giri in segno di devozione. La caratteristica manifestazione ha radici profonde, la devozione forte, come la voglia di assistere al rito religioso, ma in molti attendono soprattutto il momento competitivo. Tenete conto che c'è traccia di questa corsa, di questo paleo, sin dal 1402. Quindi è una corsa che è tradizionale, si perde nella notte dei tempi e questo ci ha un po' fatto riconoscere dal Ministero il fatto che siamo uno di quei carnevali storici tradizionali d'Italia. Il paleo è testimonianza della presenza di una forte civiltà contadina, capace di ritagliarsi in ruolo importante. Al termine dei tre giri, Fantini vengono accolti e onorati nella piazza principale, dalla folla numerosa, mentre tutto intorno al paese si colora di coriandoli i bambini festanti, in attesa dell'imminente arrivo del carnevale, che proprio dalla festa di Sant'Antonio Abate inizia il suo ciclo vitale. C'è degustazione, c'è storia, c'è fede, c'è devozione e c'è allegria. C'è un paese in festa che vi aspetta. Fine un appuntamento dopo il rinvio per maltempo, oggi alle 18 nel Chiostro del Palazzo di Città, la Proloco di Avigliano conferirà il premio Arco al dottor Claudio Tedeschi, giudice presso il Tribunale di Roma. Giunto alla ventesima edizione, il premio istituito dalla Proloco nel 1998 è un riconoscimento a tutti quegli aviglianesi che si sono distinti nella loro carriera professionale al di fuori della città, pur conservando inalterato il legame con la terra di origine. La presentazione del premiato e del suo percorso professionale sarà affidata al dottor Francesco Antonio Genovese, giudice della Corte di Cassazione. E con questo è tutto per questa edizione, vi ricordo dopo di noi l'appuntamento con le previsioni meteo del weekend a cura dell'esperto Gaetano Brindisi. Intanto grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulla Nuova TV, domani c'è l'appuntamento con la storia per Matera Capitale della Cultura 2019 e il tempo sarà clemente, sarà un tempo che vedrà solamente un clima, vedrà solamente un po' di nuvolosità, qualche isolata pioggia sulla regione. Il grosso del maltempo vedremo poi man mano nel corso della previsione che cosa ci prospetterà la prossima settimana, si tratterà di maltempo invernale, invece come dicevo per Matera abbiamo buone notizie e anche le temperature si mantengono piuttosto gradevoli. Vediamo innanzitutto l'immagine del satellite che ci mostra un'Europa piuttosto ingombrata da nubi con presenza di aria fredda sul lato occidentale dove vedete le nubi a forma di ciottoli, sul lato sinistro, quindi sull'Atlantico, aria fredda che va a impattare contro le coste della Spagna, dell'Inghilterra e della Francia. Altra aria fredda di natura ben diversa su tutto lo scacchiere europeo, diciamo, del lato orientale verso la Russia, quindi che va fino agli Urali, vedete una coltre di nubi che va dall'Italia, si può dire centrale, passando per i paesi dell'ex Jugoslavia fino agli Urali, come dicevo, è un'altra zona franca, se così possiamo chiamare, dove la nubi è minore e che comprende la Germania, la Danimarca, la parte della peninsola scandinava e parte del Mediterraneo, soprattutto le regioni settentrionali italiane. Vediamo invece, dal punto di vista nostrano, se così possiamo dire, ecco l'immagine del satellite, ci mostra una nuvolosità piuttosto alta e stratificata, che interessa proprio la nostra regione, vedete Campania, Basilicata e parte della Puglia settentrionale, dove sono in atto delle deboli precipitazioni. Altra nuvolosità è presente sul centro Italia, con presenza di nubi più compatte e più consistenti, qui le piogge sono più intense, anche le nevicate, e invece, come vi dicevo, il nord Italia ha sgombro da nubi con l'arco alpino innevato, ma neanche tanto, perché quest'anno di neve sulle Alpi ce n'è poca, così come sugli Appennini. Vediamo le previsioni, quindi per il proseguo della giornata odierna, per la serata e per la notte avremo una situazione di cielo in genere nuvolosa. Come abbiamo visto, la nuvolosità rimarrà praticamente sulla nostra regione, si continuerà a formare per via di questi venti meridionali, che portano umidità dal mare, quindi prossimità di qualche debole pioggia più probabile sulle zone della Conecrese, qualche fiocco di neve in montagna oltre 1.400-1.500 metri, per il resto una situazione che vedrà una nuvolosità irregolare, nulla di più. Vediamo la giornata di domani, come dicevo, per materia importantissima, una situazione che vedrà una stazionalità delle condizioni meteorologiche, quindi avremo un cielo parzialmente nuvoloso su gran parte della regione. Vediamo le previsioni per domani. Ecco, vedete, ci sarà il sole intervallato a Schiarite, il sole più presente forse sulla costa ionica e in alcuni casi sulla parte nord della regione. Per il resto, soprattutto sulla provincia di Potenza, le zone interne a Pennini, che avremo delle possibili deboli precipitazioni, che saranno nevose sui monti oltre 1.400-1.600 metri, deboli precipitazioni, come dicevo, e tendenza poi tra il poveriggio e la serata a un generale miglioramento per via dei venti che tenderanno a ruotare a ovest-nord-ovest. Vediamo intanto per la giornata di domani che cosa ci prospetta il quadro termico delle temperature, vedete i valori piuttosto miti rispetto alle minime dei giorni scorsi, in cui avevamo valori notevolmente al di sotto dello zero. Vedete, sono saliti su valori decisamente superiori alle medie, ma sarà qualcosa di temporaneo, come vedremo. 4 gradi a potenza, 7 a materie alle minime. Per quanto riguarda le massime, 8 gradi a potenza e 11 gradi a materie. I venti sono da sud-ovest, sud-sud-ovest, con mari poco mosso all'Ionio, appena un pochino più mosso il Tirreno. Per quanto riguarda la domenica, una situazione ancora all'insegna dell'attesa, usiamo questo termine perché sarà un fine settimana, come avete visto, piuttosto variabile, mentre il peggioramento poi è atteso a partire dal lunedì. Vediamo per quanto riguarda la domenica cosa ci prospetta, il quadro grafico, una situazione che vediamo ancora una volta una nuvolosità alternata a schiarite, schiarite più ampie sicuramente sull'alto orientale, quindi su tutta la provincia di Matera, e qualche nuvolosità più intensa sulla parte del Potentino, non mancheranno probabilmente qualche debole isolata pioggia, si tratta proprio di fenomeni molto localizzati, con qualche nevicata in montagna. Le temperature comunque domenica scendono sicuramente di qualche grado, quindi le nevicate eventualmente, laddove ci saranno precipitazioni, ci saranno nevicate intorno ai 1200-1300 metri, però parliamo di fenomeni irrisori, poco significativi. Vediamo il quadro termico, come vi dicevo, la domenica le temperature tornano a scendere, tornano a scendere soprattutto le minime, vedete meno 2 a potenza e un grado a Matera, quindi di nuovo compariranno le gelate, e per quanto riguarda le massime invece, valori un pochino al di sotto, diciamo ovviamente inferiore a sabato, ma comunque superiore alle medie, 8, ancora 7, 8 gradi, 6 gradi a potenza, chiedo scusa, e 10 gradi a Matera. Vediamo i venti, da ovest comincia ad orientarsi anche a nord-ovest, con i mari che rimangono comunque poco mosso, lo Ionio, è mosso il Tirreno. Dicevo, dopo un fine settimana all'insegna della variabilità, c'è un peggioramento che si prospetta a partire da lunedì, quindi andiamo a vedere la previsione per la giornata di lunedì, in cui arriverà, man mano la pressione scenderà, arriverà una perturbazione più consistente, che soprattutto a partire dalle regioni tirreniche, e infatti per questo motivo le zone ad ovest della regione saranno quelle più penalizzate dal maltempo, soprattutto nella seconda parte della giornata, con piogge tra deboli e moderate, qualche fenomeno più intenso sulle zone sud-occidentali, tornerà la neve un pochino più consistente, sui monti inizialmente intorno a 1200-1300 metri, poi la quota neve tra lunedì e martedì andrà scendendo anche sotto i mille metri, rimane la situazione più tranquilla sul lato orientale, ma anche qui non mancheranno delle piogge. Oggi non c'è la cartina degli spaghetti, quindi facciamo dieta, se così lasciatemi passare il termine, una dieta oggi niente pasta, e vi prospetto invece una carta del modello GFS americano Global Forecast System per la giornata di giovedì. È una situazione, ve la posto, ve la prospetto questa situazione perché è davvero anomala, i geopotenziali sono davvero bassissimi, l'Italia quasi scompare, il nucleo viola proprio, è una situazione che si verifica forse ogni 15-20 anni sull'Italia, ha i geopotenziali davvero su valori inusuali, e quindi significa aria molto fredda all'interno, non significa aria fredda per forza al suolo, ma una situazione di instabilità che potrebbe durare moltissimi giorni, perché quando c'è aria così fredda, tutte le quote, significa che il tempo potrebbe essere brutto anche per una settimana probabilmente, perché è difficile scalzare una depressione così ben strutturata, così ben organizzata. Vi dicevo, sono tantissimi anni che non vedevamo una situazione del genere e questa è una situazione che penalizza, almeno così come stanno le cose adesso, penalizza fortemente le zone centrali italiane e le zone tirreniche, quindi anche la nostra regione, meno interessate al maltempo, dovrebbero essere le zone orientali, quindi sudorientali, Puglia, Basilicata Ionica, Calabria e Sicilia, però è una situazione tutta da monitorare perché questa situazione potrebbe portare davvero tanta neve, torniamo in studio pure Gianni, grazie, dicevo potrebbe portare tanta neve, questa depressione, non dico a quote basse, ma quote medie, medio-alte, tale ipotesi di bassa pressione per più giorni, per durante, per più giorni sul Mediterraneo, significherebbe maltempo, spiccato maltempo sulle zone del Potentino, soprattutto parte del Maternano con nevicate abbondanti, vedremo nei prossimi giorni se questa previsione verrà man mano reiterata, io credo di sì, quindi ci sono le premesse per avere una seconda parte della prossima settimana all'insegna della neve e del moderato freddo, poi vedremo casomai con aggiornamenti anche speciali. Per oggi è tutto, arrivederci sulla Nuova TV. Grazie a tutti.